Musica Erano da poco passate le nuove di questa mattina quando un ragazzo extracomunitario è stato investito da un pullman di linea urbana della STP a pochi metri dall'incrocio con Corso Umberto. Il giovane è stato trasferito immediatamente presso l'ospedale Perrino di Brindisi con una vistosa ferita alla testa. Sul posto, per i rilevi del caso, sono giunti i vigili urbani che stanno provando a ricostruire l'accaduto. Secondo le prime testimonianze, il giovane si sarebbe buttato di proposito sotto il grosso mezzo. La circolazione in via indipendenza ha ripreso a scorrere regolarmente dopo alcuni minuti dall'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza.